La riapertura del Ponte Vecchio è ormai imminente e sta per partire anche il programma di celebrazioni che coinvolgerà la città sino all'inaugurazione ufficiale di ottobre. Canti, balli, musica, vecchie iniziative riadattate e qualche nuova idea. E chi vuole farsi un'idea appunto di come è stato concepito, organizzato e condotto il restauro? Niente, zero assoluto. L'unico convegno in ballo è genericamente dedicato ai monumenti nazionali come interpreti della comunità, ma neanche una riga su quel che vorrebbe sapere la comunità bassanese sul restauro di uno dei gioielli dello scrigno veneto e italiano nel mondo. Eppure la città, tanto nella vita reale quanto sui social, sta dimostrando di avere una gran voglia di capire quel che è stato fatto sul grande vecchio. L'iter è stato reso più lungo da complicazioni varie che hanno portato anche a variazioni nei progetti e ogni volta che si parla di travi, stilate, pavimentazione, la temperatura delle discussioni bassanesi si alza a dismisura. Proprio per fare chiarezza una volta per tutte su questi dettagli che non si possono tralasciare gettando un velo di polvere sulle scintillanti finiture del ponte, diventa fondamentale organizzare un incontro aperto alla cittadinanza. Ovviamente per parlare del restauro è necessario avere al tavolo dei relatori i progettisti della precedente amministrazione e magari anche qualcuno degli amministratori che hanno dato il via a questo fondamentale percorso. Con buona pace del sindaco Elena Pavan, cheppure non ha invitato né gli uni, né tantomeno gli altri, alla presentazione delle celebrazioni. Sarebbe un peccato che sull'iter venisse fatto del revisionismo e perdere altro tempo vorrebbe dire far scemare l'interesse dei bassanesi su questa parentesi così travagliata e così gloriosa della loro storia. Chi di questa storia vuol far parte abbia il coraggio di non chiederla in un cassetto.